Un decreto di sequestro preventivo di beni patrimoniali del valore di 3 milioni di euro è stato emesso dal Tribunale di Catania nei confronti di Salvatore Pistone, pregiudicato 62enne nisseno, Giovanna Maria Salvo, pregiudicato 51enne catanese e Anna Laura Comparato, 28enne catanese, con quest'ultime congiunte elementi di spicco del clan Cappello. Ad essi sarebbero stati notificati anche gli avvisi della conclusione delle indagini preliminari per i reati in concorso di truffe e falsità ideologica commesse in atti pubblici. L'attività odierna, condotta dalla Procura della Repubblica Etnea tra aprile 2022 e agosto 2024, avrebbe svelato un articolato disegno criminoso grazie al quale gli indagati, con una serie di condotte truffaldine, sarebbero riuscite ad accaparrarsi la gestione per ben due anni di un noto lido del litorale catanese. Un piano ben congegnato e collaudato, con una netta suddivisione di compiti e di ruoli, secondo cui Salvatore Pistone, nella prima fase della truffa iniziata nel 2021, avrebbe dovuto occuparsi delle trattative iniziali con la società titolare dello stabilimento balneare il Miami Lounge Beach Bar, con l'obiettivo di convincerla a sottoscrivere a suo favore un contratto d'affitto. Dei riscontri investigativi sarebbe emerso come il Pistone, fingendosi illegale rappresentante di una società svizzera, realmente peraltro esistente ed operante nel canton ticino, ma che è totalmente all'oscuro dell'intera vicenda, avesse avviato le trattative con il rappresentante della proprietà del Lido, esibendo nel corso di numerosi incontri tutta una serie di documenti e deleghe false. In tale contesto, peraltro, l'aggiudicazione della gestione dell'attività commerciale sarebbe stata particolarmente ghiotta, prevedendo il pagamento di 135.000 euro all'anno per i primi due anni, 140.000 euro per il terzo e per il quarto anno e 150.000 per il quinto e il sesto. Nel corso della negoziazione, l'amministratore della società titolare del Lido aveva comunque richiesto una polizza fideusoria, garanzia dei futuri pagamenti dei canoni di logazione, documento anche in questo caso totalmente falso. Sottoscritto il contratto, comunque concesso in affitto il Lido, sarebbero entrate in gioco le donne, che non avrebbero mai pagato la quota dei canoni di locazione pattuiti con la stessa proprietà. Le indagini complesse portate avanti dai carabinieri del nucleo investigativo di Catania hanno portato alla conclusione che l'attività commerciale fosse stata da loro illecitamente acquisita, e quindi sequestrata e data in affido in custodia giudiziaria all'amministratore individuato dal tribunale. Casa di spaccio a conduzione familiare, arrestati dalla polizia di Stato, due fratelli per detenzione di un ingente quantitativo di droga. Girava su uno scooter con la droga nel vano sottosella e tanta altra ne custodiva in casa. È la storia di un uomo di 26 anni, di sua sorella di 23, arrestati dalla polizia di Stato per il reato di detenzione ai fini di spaccio. È accaduto nei giorni scorsi, quando, durante controlli serali, gli agenti della sezione criminalità straniere e prostituzione della squadra mobile della questura di Catania, insospettiti dall'atteggiamento del 26enne alla guida del suo motociclo, hanno deciso di seguirlo fino alla centralissima piazza Stesicoro, dove, intimando l'alt, lo hanno fermato per un controllo. Nel corso degli accettamenti, l'uomo si è mostrato alquanto nervoso e per questo i poliziotti lo hanno sottoposto a perquisizione personale, poi estesa al veicolo. I sospetti degli investigatori si sono dimostrati fondati. I militari hanno rinvenuto sotto la sella dello scooter due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 200 grammi, nonché 40 euro in tasca e ben occultata negli slip la somma di 400 euro su divise banconote di vario taglio. Allargando la perquisizione all'abitazione del giovane, gli agenti hanno trovato una donna affacciata al balcone, successivamente identificata per la sorella 23enne, che ha messo subito in atto un maldestro tentativo di nascondere una parte della droga tenuta in casa. La perquisizione dell'immobile ha permesso però di recuperare un incende quantitativo di droga, nonché materiale per il confezionamento in dosi, una bilancia o un bilancino di precisione, due grossi coltelli intrisi di sostanza stupefacente e infine una somma di denaro in contanti superiore a 1000 euro, nascosta in diversi punti della casa. Ancora, celata all'interno di più buste di un bauletto per il motociclo, trovati quasi 2 kg di marijuana, 2,5 kg di hashish frazionate in 25 panetti e una busta sottovuoto termosaldata con 50 grammi di cocaina. Dalle successive analisi quantitative e qualitative è emerso che dallo stupefacente sequestrato si sarebbero potute ricavare ben oltre 53.000 dosi di hashish, quasi 15.000 dosi di marijuana e 152 dosi di cocaina. Fratello e sorella sono stato pertanto arrestati per il reato di detenzione finalizzata al dospaccio e condotti alla casa circondariale di Catania e Piazza Lanza. Controlli a tappeto nel settore alimentare da parte del NAS di Palermo, nei ristoranti della città e del lungomare di un quartiere costiero della provincia. Durante alcune delle ispezioni, gli specialisti del NAS hanno constatato violazioni amministrative riguardanti l'ampliamento arbitrario di alcuni locali, nonché la scorretta applicazione delle procedure di autocontrollo. Ai responsabili sono state elevate sanzioni pecuniarie per oltre 3.000 euro. Inoltre, durante un controllo effettuato in un ristorante etnico cittadino, i carabinieri hanno accertato le precarie condizioni igieniche del luogo e hanno proceduto al sequestro di oltre due quintali di alimenti vari, scaduti o tenuti in mancanza di adeguate procedure di autocontrollo. Gli elementi del valore di circa 6.000 euro sono stati sequestrati amministrativamente e sono state contestate sanzioni per 3.000 euro. Il Dipartimento Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ha anche quest'anno aderisce alla Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre con un evento informativo e di sensibilizzazione che si svolgerà in Piazza Duomo a Lentini con il patrocinio del Comune, la collaborazione di associazioni di categoria e la partecipazione di utenti e familiari. In piazza, la mattina del 10, sarà allestito un estendo informativo e sarà messo in scena uno spettacolo di drammatizzazione delle emozioni a cura degli utenti del DSM. L'evento, organizzato in collaborazione tra Salute Mentale gli adulti, neuropsichiatria, infanzia, adolescenza e servizio di pendenze padologiche, perseguendo l'obiettivo di un modello organizzativo integrato del Dipartimento Salute Mentale che sostenga la multidisciplinarità e ragione della maggiore efficacia, efficienza e sostenibilità dell'assistenza nel passaggio dell'età evolutiva a quella degli adulti. Durante la manifestazione è previsto un collegamento in live streaming tra le oltre 150 piazze italiane che aderiscono all'iniziativa. Canoing ritorna a successo e sigla il primo Memorial Garmelo Monello, condizionata e prova principale del convegno di Galoppo in scena sabato 5 ottobre all'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Rivisto in grande spolvero il portacolore di Marcus Chieri, allenato e montato da Antonino Cannella, che segue le traccia del battistrada Arc on Fire di Zio Ciccio Nice. Dall'ingresso in retta si presenta sui due con fare minaccioso, ingrana una marcia in più e atto il sorpasso. Prova la rimonta un ottimo Zio Ciccio Nice, rivisto sugli standard migliori, ma che però al momento deve accontentarsi della seconda moneta. Riapparso e in progresso anche Mortal Romance che completa il podio di questa condizionata sui 2100 metri della pista piccola. Cano Inga ai cento finali, prende quella lunghezza di vantaggio e la mantiene fin sul palo su Zio Ciccio Nice, Mortal Romance e Siempero. Quando vinci sempre la soddisfazione, no? E poi era bella perché ci voleva questa corsa. Antonio, una vittoria bella, una vittoria importante perché onoriamo un grande proprietario di Cavalli. Sì, sicuramente sono contento perché Zio Carmelo era una persona sorridente, sempre con la sua battuta, quando mi vedeva e sono felice che è la prima volta per il suo premio e che l'ho vinta, dai. Complimenti. Dico un premio fortemente voluto, dalla famiglia parla Finella in rappresentanza di tutte. Ovviamente occhi commossi, però oggi insomma dobbiamo festeggiare perché è una gioia, un ricordo gioioso deve essere. Sicuramente Sabina, perché mio papà teneva tanto all'ipica italiana, soprattutto nel Siracusano e sarebbe stato qua, sarebbe stato molto felice di questa cosa. Ma penso che da lassù sta sorridendo per noi. Ne sono convinta anch'io. Allora, il piccolo Carmelo, Carmelo Monello, consegnerà le coppie ai vincitori. Iniziamo col proprietario, Mark Cuschieri, riceve, ecco amore guarda, guarda la telecamera, riceve il trofeo dedicato al proprietario. Perfetto. Due trofei per Antonio Cannella, da allenatore e da Fantino. Iniziamo con quello da allenatore. Eccoci qui. Foto, sorrisi. È un'altra che la merita come Fantino. Replica subito dopo il team Cuschieri-Cannella con Jets Rhapsody che da un capo all'altro imprima il suo sigillo nella prova di chiusura. È una lotta a tre con Dirol che continua a imperversare su Jets Rhapsody che lo respinge fin sul palo con Made to Win. Doppietta in giornata anche per il gioche Giuseppe Cultraro che nelle prime due prove del convegno è protagonista con Escursionista alla prima affermazione a Siracusa e con il due anni Magic Feeling che si riscalta del deludente debutto. Cancella la scomoda qualifica di Maiden e Nido dell'Aquila nel premio Borg, successo che si attendeva da tempo e che l'allievo di Enzo Cutrale ha conquistato senza fatica e con ancora tanto da spendere. Giuseppe Canarella e Nido dell'Aquila hanno fatto bene i conti e vincono ma facile, facile, facile su Riviera di Chiaia, Irish Force e Refrigenio. Finalmente ci siamo tolti la qualifica di Maiden. Il cavallo già in passato avevo dimostrato di avere delle ottime qualità, è venuto avanti eccetera eccetera. Devo dire anche grazie alla signora Silvia Casati, socia del cavallo, che mi ha dato una grandissima mano d'aiuto. Da segnalare anche l'eccellente rientro di Not By Chance che dopo un percorso di testa respinge gli attacchi di Gran Profit e Roy Best. Not By Chance ha preso il tempo a tutti che Bele Canarella addirittura vince fermando. Not By Chance si impone a Gran Profit e Roy Best. Prossimo appuntamento con il galoppo all'ippodromo del Mediterraneo è rimandato a domenica 13 ottobre.